78 anni, un braccio ingessato, ma l'altro che ha funzionato benissimo per nascondere nella borsetta una crema corpo e un barattolo di vitamine, un valore che si aggira sui 24 euro. Siamo al negozio Tigotà in via Bellavitis in città, fermata alle casse perché era scattato l'allarme anti-taccheggio e stata invitata dalle commesse, data l'età, a saldare il conto. Ma l'anziana bassanese si è categoricamente rifiutata di pagare i prodotti rubati. Alertata una volante della polizia, la donna è stata denunciata per furto aggravato.